Sta registrando? 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 Strati e altri strumentisti dell'Area Pop Rock che vengono accompagnati da me nell'esperienza di suonare in una band. Infatti durante il progetto insegno come si può arrangiare una canzone, come ci si dispone in sala prove, come si elabora un repertorio adeguato, ma anche come si può organizzare uno spettacolo, un concerto. Richiedo ai partecipanti una conoscenza base tecnica del proprio strumento e anche della teoria musicale, nonché una pratica di studio individuale autonomo a casa che permette ai partecipanti di venire preparati alle prove e così in grado di potersi mettere in gioco nell'esperienza di musica di insieme. Grazie per la visione!